secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie andiamo vabbè stefo intanto lo bagniamo visto che non sembra che stia mantenendo le promise top 2 mi sabbo bannatemi se non lo faccio ciao stefo e grazie mille andiamo ma stefo aveva detto bannatemi se non lo faccio fatto andiamo cosa dovevo fare più di così cosa dovevo fare più di così grazie cr20 merda arriva il federico che ci si vince questa mille patate ho giocato god cavallo però prendo il cazzo grazie cr20 mille patatine da quel matto di federico più veloce gente quanti di quel porco di quel porco di quel por% di quel può income di quel porco di tuo padre no raga no raga no raga dai dai e che cazzo dai raga che cazzo stai facendo ma che cazzo stai facendo figa game on tornò da lupen e che spadava porco diaz minchia la mitra rascarica raga porco porco il cazzo marco ha fatto il pazzo ma che cazzo fa che cosa cosa cazzo fa con gran pazzarello allo chiuderello si è abbonato qua che cazzo fa marco sottolinea a io 12 mesi un anno buongiorno marco e grazie dell'anno e herda io io il cap 0 c 41 qui su del puoi salutare il mio amico ragazzi porca diaz cristo dio nooo 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 guys porco diaz porco diaz misso ragazzi porco diaz misso porco diaz porco diaz porco diaz porco diaz porco diaz porco diaz ok è colpa mia mi ha detto esiste asando ma come è possibile io non mi fermo va bene così signori concentrati se si stefolo già bannato 10 minuti fa andiamo ma parca traia specifica in game assumi long shot se vuoi un cecchino che segna i bersagli se mi assumi posso scansionare l'area alla ricerca di nemici what the fuck ah vabbè dai un altro degli npc insieme al medico che abbiamo vi ma dai raga a me sembra allora questo è il medico questo è long shot oh cazzo questo morisse raccogliamogli un'arma ok fatta easy perché ero convinto fosse già morto porca troia sì ma io devo fare la sfida di trivius porco diaz oh vabbè raga oddio che scena orribile oddio che scena orribile mi dedica un insulto al bimax ma perché no perché l'ho conosciuto di persona bimax non l'ho insulto al bimax figa l'ho conosciuto di persona don't speak italiano aspetta un attimo romino per i coglioni aspetta un attimo oh yes molto molto bene ok c'era un tizio che mi ha detto parli italiano ha detto non mi rompe i coglioni sono salvato superstiti allora ma c'è lo standard dei giochi in compagnia ma angelo nero inizia dicendo entro dentro ma nessuno lo sa scrivo il tuo nome sulla polvere soffio e sei già mia vieni mi a prendere basta tutta la notte fa voi non avete capito che questa partita io la vinco come se fossi veramente sono regione la cash caps lo potevo uccidere lo potevo uccidere ma con il 500 di sbù e la salve di steppo no non si può più fare regents si può giocare solo in una regione ma il giusto 190 in faccia facciamo un'altra arena mattina mamma mia questi qua sono quelli che vivono per fortnite ragazzi sono quelli che vivono per fortnite vogliamo giocare ancora più da pezzo di merda giochiamo ancora più da pezzo di merda mi spiace per quello che vedrete ragazzi ma visto che questa mattina l'andazzo è così dobbiamo assolutamente risolvere in una situazione diversa io vivo per la figa andiamo che dio la benedica sempre comunque mentality io ieri ho incontrato un super assatanato questi sono quelli che si giocano le chiavi di casa ragazzi non avrai altro altro dio al di fuori della figa lo facciamo rotto salve ragazzi